Musica Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, sono già con il 308 e come potete vedere siamo riusciti a registrare in giro per Sant'Angelo 4 anche se pioveva, adesso vedete che ci sono le chiazze di acqua per terra però alla fine siamo riusciti a registrare e oggi vi ho portato a vedere le villette e la zona dietro alla piscina eh sì le villette, il quadrato e la zona dietro alla piscina e se la batteria mi dura perché è già quasi finita perché non l'ho caricata e lo so comunque in caso, vabbè vi porto tutti e due in caso vado a casa, la metto in carica e poi ritorno vabbè comunque il quadrato e la zona dietro alla piscina ma adesso faccio un taglio e ci vediamo là, ciao anche a dirvi che è arrivato il circo da poco qui a Sant'Angelo viene tipo ogni anno anche se a volte le giù sta avendo il circo e visto che c'è niente devo chiudere in fretta, niente vi spiego dopo allora eccoci arrivati, di qui c'è la zona dietro alla piscina e vi dovremmo comparire adesso una scritta che vi dice in che minuto inizia la zona dietro alla piscina mentre di qui c'è il quadrato che invece inizia a questo minuto e questo minuto che state vedendo parco Baden Powell eccoci arrivati nel parco principale anche unico parco di questo quartiere che si chiama il quadrato e da molte vie quindi vabbè e niente è abbastanza bellino ci sono dei salici frangenti se non mi sbaglio non ne sono sicuro poi le panchine e tutto intorno le case, no? adesso c'è l'albero tutto intorno le case adesso vi metto qualche foto perché voglio fare economia con la batteria e quindi niente ciao sono arrivati nella zona dietro la piscina anch'essa un labirinto proprio che ti ci perdi dentro se non la conosci e di là c'è il circo poi ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video sono già qui di 3.08 e quest'oggi avremmo dovuto registrare in giro per Sant'Angelo 4 se non mi sbaglio sì, è il 4 però non lo registriamo perché come potrete vedere sta piovendo e quindi non so cosa vi porterò forse robo o qualcosa altro oppure niente non lo so comunque in caso lo recuperiamo domani se non piove o un altro giorno comunque non ci perdiamo l'episodio questa settimana esce perché mi mi sta piacendo molto questa serie e non voglio interromperla e niente adesso forse vedremo qualcosa dopo il gioco che facciamo oggi però vi volevo soltanto informare del perché non l'abbiamo fatto in giro per Sant'Angelo se smette di piovere magari registriamo anche oggi ma non credo che ce la faccio perché avrei dovuto iniziare adesso e quindi niente ciao ciao